Tanti, tantissimi eroi in divisa hanno dato vita alla Befana organizzata dall'associazione ACA, All Cops and Heroes, grazie all'impegno del presidente Francesco Paolo Russo e degli altri volontari che si sono messi a disposizione per realizzare una splendida kermess. La manifestazione si è svolta presso le strutture del Palafilca, Maostia, dove sono intervenute oltre 2500 persone. Al centro il divertimento per famiglie e bambini con lo scopo di far conoscere ai giovanissimi l'importanza del ruolo delle forze dell'ordine e di quello di tutte le realtà civili che rendono più sicuro il nostro paese. Questa festa è dedicata soprattutto a quelle donne e a quegli uomini che oggi stanno lavorando in strada per garantire la nostra e la vostra sicurezza, non dimentichiamoceli mai, perché loro anche oggi per poterci garantire sicurezza stanno dando il loro contributo quotidiano ed è per questo che ho fatto questa associazione, parlavi dell'acronimo Agab or Copsar Heroes e va praticamente a scimmiottare il più famoso Agab or Copsar Bastard e l'ho fatto perché quando mi dicevano che tutti i polizionati sono bastardi, dico probabilmente qualche bastardo c'è, come in tutte, ma sono una totalità di eroi. Facciamo un pensiero a loro, ma anche alle altre divise, alle divise dei medici, degli infermieri, tutte le persone che garantiscono il bene pubblico dei cittadini della capitale. Ho fatto una letterina alla Befana, ho chiesto oltre a dei dolcini, ho chiesto una sensibilizzazione verso queste persone che a volte veramente versano in uno stato di indigenza, perché 1500 euro al mese per un monoreddito che tra l'altro non è a casa la notte, la sera, quindi ha bisogno di una data per i figli. Noi chiediamo non che non vengano più tagliati sia il personale che le autovetture, che i mezzi, che quant'altro, ma che vengano aumentati, significativamente aumentati perché noi garantiamo la sicurezza. La sicurezza, come la salute, è un bene primario, è come l'acqua e il pane. Non dimentichiamocelo mai. Insomma una Befana impegnata e allegra allo stesso tempo, dove non sono mancate le classiche calzette piene di dolci distribuite ai bambini e che ha visto anche la partecipazione di artisti molto conosciuti al grande pubblico, come Maurizio Mattioli, Edoardo Siravo, Enzo Salvi, Lallo Circosta, per citarne solo alcuni. Protagonisti insieme ai piccoli gli agenti delle volanti della Polizia di Stato della Questura di Roma, molti dei quali premiati ieri per essersi contraddistinti nel loro lavoro, come nel caso della pattuglia che ha aiutato una donna in difficoltà a partorire in casa. Grazie a tutti.